Dall'impronta digitale fatta in bocca alla simulazione di tuo nuovo sorriso. Questo si chiama Clean Check e permette di vedere da un lato la tua bocca all'inizio e dall'altro lato la tua bocca alla fine. Inoltre, con questo bellissimo strumento, potrai vedere esattamente il numero di mascherine, in questo caso 20, che sono 20 settimane di trattamento, quindi 5 mesi massimo della durata di questo tipo di trattamento, e andiamo anche a vedere tutti i vari passaggi. In cui i denti si vanno piano piano a spostare nella posizione finale e corretta. E come per magia, nel corso delle settimane, si va a spostare. Questo strumento è veramente fenomenale, perché capisco che una persona che sta cercando un miglioramento estetico della sua bocca, voglia sapere effettivamente cosa vada a fare. E questa, veramente, è una simulazione veramente molto accurata, perché sarà proprio l'inizio e la fine, quindi quello che effettivamente succederà. E quindi potrete avere la sicurezza di capire se questo trattamento fa il caso vostro. Questa fase si chiama studio del caso, che viene fatta appunto con delle foto e le scansioni. Dopodiché, solo a progetto approvato, che potremo condividere con voi in digitale, mandandolo via posta elettronica, potremo far partire effettivamente la produzione delle mascherine. Ciao e al prossimo video!